C'è una cooperativa del gol che sta prendendo forma nel Bari. Nelle prime sei giornate del campionato di Serie B 2024-25 nessuno ha mandato in rete tanti giocatori come la squadra di Moreno Longo. Sono ben otto per altrettante reti a referto e sarebbero 9 su 9 considerando anche l'acuto di Manzari a Cremona il 10 agosto in Coppa Italia. Un dato che da una parte avvalora la varietà dell'organico messo a disposizione dell'allenatore piemontese e la capacità dello stesso Longo di tenere tutti sulla corda e dall'altro certifica la sensazione di inizio stagione, quello di un Bari senza un centravanti in grado di catalizzare l'azione e accentrare su di sé il peso della produzione offensiva. Nella scaletta dei marcatori bianco-rossi trovano posto tutti i reparti, dalla difesa con Ricci, passato al Cosenza e atteso sabato da Exal San Nicola, Mantovani e Dorval a segno al centrocampo con gli acuti di Lella e Maita fino ovviamente all'attacco. Un gol a testa per Novakovic, Lasagna e Favilli. Quest'ultimo ha rischiato di mettere la freccia del sorpasso già all'esordio a Frosinone con la doppietta personale vanificata al 95esimo solo dal fuorigioco di Tripaldelli. Quella semirovesciata avrebbe rappresentato il gol più bello della carriera per il 27enne Pisano. Favilli non ha dubbi sulla risposta e sull'obiettivo personale. Farne di più belli non è facilissimo, quindi sarebbe stato sicuramente il più bello e sarebbe stato anche difficile da batterlo. Gol quanti, più possibile, difficile dare un numero. Sicuramente per un attaccante andare in doppia cifra è l'obiettivo minimo, diciamo, dai. Scorrendo la speciale classifica dei marcatori squadra per squadra in Serie B si scopre che il Bari precede Modena, Cremonese e Suttirol sul podio della graduatoria, con il Cosenza prossimo avversario in coda a quota 4 con Cittadelle Catanzaro e in vantaggio sul Frosinone, ultimo a 3. E in sospeso ci sono ancora nomi che in carriera hanno dimostrato un buon feeling con il gol. È il caso di Falletti, Sgarbi e soprattutto Sibigli, capocannoniere bianco-rosso della scorsa annata con 12 centri. Elementi che permettono di sorridere, come successo a Boris Radunovic dopo il grande spavento di domenica per l'impatto in aria con Puccino e Favilli e la sostituzione con Pissardo. Il portiere serbo è stato medicato ed è rientrato da Frosinone con il terzo clean sheet di fila in tasca. La porta del Bari è imbattuta da 341 minuti. Se in tanti provano a far gol, tutti hanno il compito di difendere, andando ad aggredire gli avversari nella loro metà campo e il Longo Pensiero.